Domani in occasione della quarta tappa del Giro d'Italia, giunto alla sua centunesima edizione, chiuse per motivi di sicurezza, tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, gli asili nido di tutto il territorio comunale. La storica manifestazione arriva a Catania dopo le tre tappe corse in Israele dedicate alla ciclista italiano Gino Bartali che salvò centinaia di ebrei italiani dalla deportazione. La carovana ciclistica partirà alle 12 da Piazza Duomo e via Etnea. Dopo un passaggio nel territorio di Gravina, la Corsa Rosa rientrerà in città da San Giovanni Galermo passando per le vie Girolamo-Gravina, San Giovanni Battista, Galermo, Sovrappasso e Rea 15, Galermo, Sebastiano Catania, Lorenzo Bolano, Rotatoria, Viale Bolano e Felice Fontana. I ciclisti entreranno quindi nel territorio di Mister Bianco e poi di nuovo a Catania attraversando le vie Leonardo Vigo, Bruno Letterio Lizio, Salvatore Salomone Manno, stradale Cravone, stradale San Giorgio, Viale San Teodoro, rampa verso Viale Papa Giovanni Paolo II, Rotatoria, strada provinciale 55, direzione Gela-Caltagirone.